Un'impressionante muria di pesci nel lago di Mercatale. Come testimoniato anche dalle immagini di alcuni nostri telespettatori recapitate a Rossini TV in questi giorni, c'è stata un'impressionante strage di quintali di carpe, cavedani, alborelli e carassi, morti soffocati dopo che nei giorni scorsi la diga di Mercatale ha aperto le paratoie riversando colate di fango a valle del fiume Foglia. Un'operazione di svaso disposta dal consorzio di bonifica delle marche per un piano di manutenzione programmato che ha avuto un effetto micidiale sulla fauna del bacino idrico. L'anomalo svuotamento del lago ha portato sul posto le guardie ittiche ambientali della Fipsas e i carabinieri del nucleo forestale per le verifiche assieme allo stesso consorzio di bonifica e a marche multiservizi che attraverso un comunicato ufficiale hanno fatto presente la gravità di una situazione sulla quale si sta redigendo la stima dei danni provocati con la valutazione di eventuali sanzioni. Un comunicato in cui si sottolinea l'importanza di una futura gestione della diga coordinata con tutti gli organi e gli enti coinvolti per evitare il ripetersi di simili situazioni.